Ciao ragazzi, sono Scofield e questo è un nuovo video. Quest'oggi parleremo di come cambiare la skin su Minecraft. Finalmente ci sono riuscito. Anche se avete Minecraft, diciamo, ranocchio. È molto semplice, infatti cercherò di spiegarvelo in due minuti. Ho visto molteplici video su internet che spiegavano un po' come fare per cambiare la skin su Minecraft, ma non funziona niente. La cartella bin, cambiare il file, aprire il zip. Poi cercando su internet, grazie ad un mio amico, con alcuni siti inglesi, io ho scoperto che è possibile cambiare la skin di Minecraft. Sempre. Per prima cosa andiamo su questo sito che vi ho messo in descrizione. Una volta che siamo andati sul sito, scegliamo la skin che vogliamo. Ce ne sono davvero tantissime, io ho scelto quella di Hitman, ma in questo video vi farò vedere come selezionare la skin di Superman, di Clark Kent. Una volta selezionata la vostra skin preferita, che in questo caso per me è quella di Superman, andiamo a copiare il nome in alto a semistra, che in questo caso è Dan. Una volta pagato il nome, lo andremo a mettere nel Knet. Io almeno faccio questa prova con il Knet, ma non so voi quale programma usate per giocare a Minecraft, ma penso sia lo stesso il procedimento per tutti i programmi. Se avete qualche problema basta che commentate nel video e vi aiuto, insomma. Quindi questo nome, andremo sul Knet, nuovo profilo, inseriamo il nome come è scritto sulla skin, salvo profilo, apri il Minecraft e come potete vedere adesso sono in single player, ma potete giocarci tranquillamente anche in multiplayer. Infatti sul server ho la skin di Hitman, molti già lo sanno. Quindi con questo è tutto, se ci siete riusciti a cambiare skin su Minecraft, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale magari. Alla prossima, vi invito sul mio server e potete trovare l'IP sul forum. Non vi do nessuna spiegazione in questo video perché voglio che sia abbastanza breve. Io quando ho fatto la ricerca su internet su come cambiare skin, porca puttana porca, quando ho cercato delle guide, cercavo di trovare sempre la guida con meno minuti possibili. Quindi alla prossima. Ragazzi, sono ancora una nuova skin perché praticamente il video l'ho registrato ieri e mentre lo montavo praticamente mi sono ricordato di dirvi una cosa molto importante riguardante i nickname di Minecraft. Allora, quando andiamo a mettere il nickname in Knet, insomma, quel nickname ci uscirà, diciamo, in testa come tag nei server in multiplayer. Quindi per risolvere questo problema, per quanto riguarda il nostro server, basterà fare slash nick e quando scrivete in chat, diciamo, nella chat globale leggeranno il vostro nickname scelto. Però, se vi avvicinate con un altro player, in testa vi uscirà comunque il problemino di un nick un po' particolare. Non so se posso risolvere con qualche script questo problema, però magari se qualcuno può aiutarmi, visto che non ho proprio idea di come cambiare il nome in testa al personaggio di Minecraft. Ma boh, tutto qui, niente, è una cosa che volevo dirvi perché comunque è una piccola pecca che riguarda questo sistema di cambio skin con la versione, diciamo, ranocchia. E niente, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi e se avete problemi non state sul forum oppure commentate questo video e vi darò una mano. ZINTA!